Altra sconfitta in 3-7 per l'Avi McVolley Modica che a William Ingrosso di Taviano si arrende ai pugliesi dell'efficienza e energia galatina sulla cui panchina ha fatto l'esordio l'ex tecnico biancazzurro Peppe Bua. Tre punti importanti quelli conquistati dai padroni di casa che hanno impegnato 77 minuti per piegare la resistenza dei modicani che hanno giocato sotto tono senza riuscire a sviluppare il gioco a cui sono abituati. Dopo un inizio equilibrato Modica mette freccia 5-8 ma galatina non si lascia intimorire Bua infatti tiene alta la concentrazione dei suoi atleti che a metà 7 hanno già recuperato lo svantaggio e hanno messo il muso avanti nel punteggio 14-16. Modica perde gli equilibri e i padroni di casa martellano con puntualità allargando la forbice del punteggio in maniera costante 17-21. Gli ospiti provano a reagire ma alla fine cedono con 19-25. Equilibrio iniziale anche nel secondo set ma questa volta è galatina a romperlo portandosi avanti di 2-8-6. Sulle ali di entusiasmo i padroni di casa provano quindi a scappare e ci riescono con un break che li porta in avanti di 6 al 21-15 per l'esattezza. Modica ci prova ma si arrende nuovamente con lo stesso punteggio del primo parziale. Nel terzo set fa solo da comparsa all'immediato break iniziale di 8-13 infatti indirizza la partita che vede in campo solo il sestetto di Bua che a metà frazione ha doppiato i modi cani 16-8 che ormai sono con la testa nelle viaggio di ritorno. Martinezza e compagnia non oppongono quindi più resistenza e alla fine alzano anche bandiera bianca rendendosi largamente per 18-25 che vale 3-0. Galatina che inizia come meglio non poteva il nuovo corso che dovrà portare quindi alla salvezza. Grazie.